Primo volo con scheda KK di Savio sul quadricottero di Beniamino. Adesso vediamo come si comporta. Durante questo testo stiamo facendo anche una leggera climatura della radio. Per esigenza di video mi ero messo io alle spalle. Grazie per la visione. Ma se lasci i comandi è ancora troppo in taratura. Ho questo beccheggio qua dobbiamo fare un po' il coso. Ho visto che scendeva. Le batterie stanno incominciate. Ci dobbiamo montare gli allarmi. La radio è una X. La batteria è fredda però. Questa non è che si scaldano tante. Le batterie mi sa che sono poco boh, proprio perché abbiamo provato pure prima. Sotto c'è la FY90Q di Benny e sopra abbiamo appoggiato la mia KK versione 5.5. Tarature. L'unica cosa è che non siamo riusciti a mettere firmware 4.7, abbiamo dovuto mettere firmware 2.3. Alla prossima. Alla prossima.